per iscriverti agli eventi di forum pia 2012 che più ti interessano consulta il programma congressuale dalla home page di forum pia clicca sul pulsante in alto oppure sull'indicazione programma congressuale sulla pagina del sito dedicato al programma congressuale 2012 trovi tutti i seminari di forum pia organizzati per calendario e per percorso trovi i master e le officine organizzate dagli espositori nei loro stand e trovi i keynote e i relatori di forum pia 2012 per ogni relatore è disponibile una foto un breve profilo e gli eventi a cui partecipa sulla parte destra del programma congressuale è disponibile l'area login attraverso cui ci si può autenticare per registrarsi ed iscriversi ai singoli eventi a cui si è interessati una volta individuato il convegno di proprio interesse basta inserire l'email e la password con cui si è registrati alla community di forum pia punto it e autenticarsi a questo punto basta cliccare sul pulsante iscriviti che si trova in ogni convegno e nella colonna di destra la nostra agenda verrà aggiornata se siamo già registrati ad un evento il sistema ce lo segnalerà con un alert dalla sezione login puoi accedere ai tuoi dati oppure puoi stampare il promemoria del tuo percorso formativo in mostra ricordati di stampare il promemoria che ti permetterà di entrare in mostra senza fare la fila che ti ricorderà tutti gli appuntamenti formativi a cui sei iscritto e che attraverso il codice a barre ti registrerà ad ogni singolo evento a cui partecipi e ti permetterà di ricevere l'attestato online al termine della manifestazione attraverso l'attestato Grazie a tutti.